good morning si anche se in realtà qui diciamo la mezza e mezzogiorno e mezzo mi sono svegliato un po più tardi quindi diciamo ovviamente è già pomeriggio mister master maestro o semplicemente David Lynch it's March 12 2022 and it's a Saturday in Naples 53 and 6 Fahrenheit 12 celsius and this means that non è quella giornata veramente 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 really cold as it is this and this period ovviamente sempre per me perché comunque in generale fa freddo però invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto last December to understand what are the two practices e due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo perché è impossibile ma quantomeno di combatterlo il freddo si poi il video sui pensieri non so se lo faccio comunque nel caso come iniziano è sempre separato da questo quindi occhio e poi voglio dire che ieri ho fatto un errore nel montaggio del video ma di ieri il report qualche problema nel montaggio ma purtroppo il venerdì arrivo troppo stanco c'è anche l'episodio su it's a Friday once again a volte video dei videotastieri da caricare è una giornata veramente piena è già impossibile che riesco a caricare qualcosa quindi quindi mi scuso ma ieri proprio in particolare sono molto stanco e mi sono accorto ci sono stati degli errori nel montaggio vabbè non fa niente è bene così anyway I see and you will just see from the window today we have we have those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way ovviamente all along the way qui sono già pomeriggio qualche altra ora per cui speriamo di continuare anche così domani che dire in questi casi per cui say that is so from the mythical window with the color of the curtain sublime oggi nulla da dire and it's green roller shooter behind me on the top not visible infacted in the shot and finally from a mythical keyboard diamati gx 640 ipg ipg 625 have a great day in all the people follow the channel reports un saluto davvero a tutti ok si oggi vediamo al video sui pensieri a domani a domani ciao 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 ciao